Sì, no, ne ho fatto dopo giovedì scorso, ho fatto il video per gli auguri dei 60 anni. Che dire, lo aspettiamo a braccio aperto, ma non solo a Napoli secondo me, penso che lo aspettano tutti gli italiani, tutti gli appassionati di calcio, ma noi lo aspettiamo a Castelvolturno, abbracciarlo e riuscire a parlare con lui. Ne li auguriamo in meglio, sicuramente lui è forte, perché ne ha passate tante in questi anni e speriamo che passerà anche questa, un grandissimo boccalupo a lui e lo aspettiamo a braccio aperto dove lui ha scritto la storia, che è a Napoli. Nella verità che voi giustamente fate il lavoro dei giornalisti, non abbiamo incappato nessuno, che non dobbiamo capire che a Napoli siamo. Sicuramente la partita di domani è una partita, una squadra che gioca con una linea di 5, 5-3-2, è una squadra, tre anni fa si è venuto qua, è una squadra talmente diversa, ci ho perso, ma era una squadra tecnica, una squadra che giocava un calcio diverso. Quest'anno è una squadra che sa difendere bene, una squadra che difende bene, una squadra che domani ci troveremo pochissimo spazio per quello che abbiamo visto. e noi dobbiamo giocare il nostro calcio. Io non sono d'accordo per quello che state dicendo ultimamente, perché la partita con la Zeta Alcamara abbiamo comandato la partita in tutti i 90 minuti, l'abbiamo persa, sicuramente non eravamo velocissimi negli ultimi 20-30 minuti. La partita con Sassuolo, non so che tipo di partita mezza Italia ha visto, perché abbiamo avuto sette palle e gole e non concedere nulla a Sassuolo, credimi, che non è facile. Abbiamo fatto abbassare Sassuolo su 33 metri, di solito gioca su 60-67 metri. Noi non dobbiamo dimostrare nulla, noi dobbiamo continuare a giocare il nostro calcio, sicuramente con qualche soluzione diversa, mettere tutti i giocatori nelle condizioni giuste, ma noi siamo sulla strada giusta, secondo me, è per questo. Domani pensiamo alla partita di domani, perché sarà una partita difficile, troveremo poco spazio, già l'ho detto, però, ripeto, in questo momento sono contento per quello che stanno facendo i miei giocatori e per il calcio che stiamo facendo. Anche con scelte diverse di formazione rispetto al Sassuolo? Vediamo, penso che saremo sulla stessa direzione di quello che avete visto in Spagna.